Al centro di questa nuova edizione abbiamo anche il risparmio energetico che appunto è conseguente alla crisi energetica che è arrivata dopo la guerra in Ucraina, in Russia e quindi ha aumentato il costo delle materie prime e inevitabilmente è impattato sul nostro ambiente. Oggi con questa settimana, con questo programma ampio che vede il coinvolgimento di imprenditori, associazioni, in realtà anche culturali della città e quindi alla quale aderiscono in tanti e anche il mondo scolastico. Ecco che il coinvolgimento di tutte queste enti ci ha aiutato a fare un programma molto importante che si declina su ogni giorno con tantissime iniziative che appunto vanno nella sensibilizzazione di quello che è l'utilizzo di una mobilità dolce. Dolce significa poi far bene a se stessi, mettere sempre al centro la persona in un benessere proprio ma anche della società e dell'ambiente che viviamo. Più mobilità collettiva, più mobilità dolce, meno automobili. Ma sì, questo è un po' lo slogan che ci piace associare a questa giornata di TechFem per la mobilità sostenibile perché vogliamo lanciare dei messaggi e con questo anche un progetto concreto con la città e con altri partner, altre aziende della zona industriale di Bellocchi per puntare a favorire sempre più l'utilizzo di mezzi pubblici e l'utilizzo soprattutto della bicicletta per recarsi al lavoro e quindi ridurre il numero di automobili. Chiaramente l'automobile siamo consapevoli che non sarà ineliminabile e aggiungiamo a questo anche un ulteriore, un sottotitolo ovvero le automobili che ci saranno però dovranno essere appunto green, sostenibili e dato che noi siamo società di ingegneria innovativa impegnata nella transizione ecologica allora abbiamo rilanciato anche con l'idrogeno quindi avremo qui ospiti come Toyota con l'auto idrogeno con la quale parleremo nella giornata di talk proprio di queste tematiche anche di transizione energetica. Il nostro talk e poi anche l'allestimento del TechFem Village in piazza 20 settembre ci sarà il giovedì 21 settembre quindi la prossima settimana sono invitati all'ex chiesa del gonfalone in centro tutti gli interessati ad assistere appunto alle testimonianze degli esperti e poi nel pomeriggio in piazza 20 settembre ad ammirare la Toyota Mirai e a partecipare all'iniziativa che metteremo in campo insieme ai partner. Parliamo del progetto dedicato ai bambini e alle scuole superiori. E' importante anche l'educazione a abitudini sostenibili. Faremo una prima indagine, un questionario dove ci diranno come si spostano adesso e insieme a loro faremo delle proposte anche di cambiamento ulteriore quindi è tutto un discorso in divenire molto interessante e molto bello insomma. Un'ultima cosa anche rispetto alle aziende che hanno cominciato a muoversi è importantissimo perché per esempio la zona industriale di Fano è un altro polo attrattore di traffico molto sostanziale così come le scuole, voi pensate alla mattina alle 8 che cosa succede attorno alle scuole, attorno alle fabbriche, attorno alle zone di lavoro e quindi si sta muovendo tutto nella direzione giusta e sono molto contenta di questo. Continuiamo così. Grazie. 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 Grazie.